Bene, siamo ancora con voi e parliamo sempre di sole, di vacanze, di quanto ci faccia bene l'esposizione solare, di quanto faccia bene all'interno del nostro corpo, per quanto riguarda soprattutto le nostre ossa, perché ci dà quel surplus di vitamina D che forse per alcuni di noi è importante riuscire a capararcela, però col dottor Manca adesso parlavamo di disturbi gastrointestinali che sono estremamente frequenti d'estate, decisamente più frequenti che d'inverno, soprattutto nel nostro paese, pare che in Italia, a differenza di altri paesi, stiamo veramente moltiplicando di più i disturbi gastrointestinali nella stagione estiva, ma in realtà io avevo appena chiesto al dottor Manca prima della pausa pubblicitaria che cosa dobbiamo fare, come ci dobbiamo comportare se il nostro viaggio vacanziero ci porta in paesi esotici, in paesi lontani, dove spesso le norme igienico-sanitarie non sono così restrittive magari come le nostre, forse non siamo pronti anche a contrastare certe infezioni che magari in quel paese sono più facili e quindi hanno già gli anticorpi pronti per difendersi, noi invece non li abbiamo, insomma però la famosa diarea del viaggiatore che è la cosa più semplice, il disturbo più semplice e che colpisce una buona percentuale di persone che fanno questi viaggi un pochino più lunghi, ecco si può prevenire, si può contrastare, cosa dobbiamo fare? Tanto molto fortunatamente sono forme in genere che si autolimitano, però certamente quando si è in viaggio il disturbo crea ovviamente dei problemi, soprattutto in vacanza. Le norme sono poche e semplici, innanzitutto bisogna fare attenzione e utilizzare solo della frutta che si può sbucciare e prendere la verdura prevalentemente cotta, perché il problema è la contaminazione dell'acqua, quindi con dei batteri magari anche poco patogeni, ma a cui noi non siamo abituati, perché questo è il punto fondamentale, perché in genere sono ceppi di tipo scherichia, però dei ceppi che non frequenti nelle nostre latitudini e quindi a cui noi ovviamente non abbiamo gli anticorpi, non siamo così protetti. Una cosa importante, quindi le bevande dovrebbero essere bevande assolutamente tutte sigillate, quindi prendere l'acqua, perché prendere sempre acqua in bottiglia, però bisogna fare attenzione che molte volte viene servito al ghiaccio, perché magari viene presa la bottiglia, però viene usato il ghiaccio, ma il ghiaccio viene usato perché l'acqua, anche il rubinetto, comunque non è, quindi teoricamente anche per lavarsi i denti si dovrebbe usare dell'acqua confezionata. Quindi questo, soprattutto, diciamo che ormai le condizioni sono migliori, cioè quindi non è che uno, il conto chi fa il viaggio vai da te e chi va comunque nei viaggi organizzati. Comunque il problema c'è lo stesso, quindi diciamo soprattutto per quanto riguarda la frutta e la verdura bisogna fare molta attenzione all'acqua, perché quello è il veicolo principale, il veicolo è quello. E un'altra cosa sono chiaramente i frutti di mare, mangiati crudi, perché il problema è sempre quello, siccome sono dei grandi filtratori di batteri e di virus, chiaramente bisogna avere... Ecco, quindi la cottura... La cottura del cibo è forse... E soprattutto col caldo, il problema è che il fatto è che il caldo è un ottimo terreno di cultura per i batteri, quindi se nella serie dei cibi c'è, farà molta attenzione quando ci sono dei cibi elaborati, soprattutto delle maionesi, dove ci sono le uova, quindi è quello col calore, quindi anche carichi batteri mini che di per sé in condizione non sono, non sarebbero patogene, diventano patogene. Allora, dottor Manca, noi quando andiamo in vacanza abbiamo sempre il nostro beauty case delle medicine, dei farmaci, che ci portiamo ovviamente dietro, c'è bisogno anche del farmaco antidiagoico? Sì, ci sono i disinfettanti intestinali, c'è tipo in genere la refaximina, quello che viene più utilizzato, non bisogna mai utilizzare, se non in casi particolari di necessità, i farmaci che bloccano l'intestino, perché chiaro che se devo prendere l'aereo, questo si può fare in caso, però la diarrea in genere è un meccanismo di difesa, perché con la diarrea noi eliminiamo le tossine, il bloccare crea, prolunga, quindi aumenta la permanenza nell'intestino delle tossine, quindi poi può peggiorare la gravità della malattia, e questo un po' come la tossica o la tossica o il cataro, io devo dare degli spettoranti per favorire l'iniezione, non devo dare dei sedativi, i sedativi della tossica danno se è una tossica secca, ma non certamente se è una tossica brutta. Per quanto tempo possiamo sopportare il fatto di avere questi attacchi di diarrea prima di intervenire eventualmente? No, in genere è come in aspettare, se uno è sufficientemente idratato, non è in posti particolarmente disagiati, comunque è importante reidratarsi con un'acqua. Soprattutto bere, bere in quei casi. La cosa che non vanno a bere, cioè quindi reintegrare i liquidi e aspettare, perché in genere sono forme comunque autolimitanti, quindi non sono mai forme particolari, poi in caso particolare ovviamente si consulterà il medico in caso di situazioni particolari, però sono forme in genere, se il paziente non ha altre patologie, come ripeto, possono diventare un po' più serie in pazienti che hanno altre patologie, pazienti di abecce, si parlava adesso, o pazienti che prendono appunto dei farmaci che possono peggiorare la situazione, in quello chiaramente bisogna avere un po' più di attenzione. Allora, io tornerei ai nostri altri due ospiti per dare dei consigli utili, perché questa è anche la trasmissione nella quale noi diamo consigli to cure proprio per essere pratici e utili nel comportamento di tutti i giorni. Vogliamo partire dalla dottoressa Giannotti? Sì, allora, quali consigli utili lei ci può dare per comportarci bene nell'approccio con il sole, nell'approccio con il benessere fisico, quindi anche della struttura, il fatto di magari fare un'attività preventiva, nel senso di avere un buon stile di vita per far sì che, insomma, non si incorra poi in certi momenti di difficoltà con patologie che poi abbiamo citato prima, tipo l'osteoporosi, insomma, ed altre. Direi che l'abbiamo già sottolineato. La nostra salute in parte, in parte, siamo noi anche a così indirizzarla e modularla e quindi l'importanza della appunto prevenzione precoce, quindi in età infantile, abbiamo detto garantire l'esposizione solare, un'attività fisica, una dieta anche sempre adeguata, ci siamo forse dimenticati, ma anche l'apporto ovviamente di calcio, di proteine, è molto importante in tutte le fasi della vita e quindi l'importanza dell'età infantile. Mantenere questo stile di vita sempre, per quanto possibile compatibile, in alcune fasi, vedi, la gravidanza, l'allattamento, nella donna appunto il periodo della menopausa, fare particolare attenzione, nell'anziano, che è effettivamente una popolazione a rischio, garantire per quanto possibile l'esposizione solare. Devo dire che in questa fase della vita abbiamo sottolineato la capacità di produrre la vitamina D comunque si abbassa anche proprio per un invecchiamento della cute e dei meccanismi di sintesi della vitamina D e in effetti in questa fascia di popolazione la supplementazione con vitamina D dovrebbe essere, diciamo, garantita perché l'anziano ha un rischio altissimo. Ecco, nel caso in cui un anziano abbia, o un anziano o una donna in menopausa abbia qualche problema o comunque avverta attraverso il suo medico di famiglia, insomma, che ci sono, ci potrebbero essere dei problemi del genere, si può rivolgere ovviamente allo specialista che provvederà a fare che cosa? Una MOC? Quella famosa MOC che poi noi sentiamo, no? Attenzione, perché quello è già un qualcosa in più. Diciamo che il medico di medicina generale, più che forse lo specialista, deve sensibilizzare, deve essere attento a individuare quelli che sono appunto i soggetti a rischio di carenza di vitamina D e nel caso appunto attivare una supplementazione. Non vuol dire deficit di vitamina D uguale osteoporosi. Certo, spesso le due cose possono anche combaciare. È molto presente, però non è la stessa cosa. L'indicazione alla densitometria ha, diciamo, delle altre caratteristiche e diciamo che la supplementazione di vitamina D deve essere appunto vista addirittura come qualcosa di, se vogliamo, di preventivo e garantire uno stato vitaminico D adeguato e in qualche modo arricchisce quello che è appunto il nostro tesoro da portare avanti. Ecco, il nostro tesoretto che abbiamo all'interno del nostro corpo. Dottor Bertero, anche per quanto riguarda l'esposizione al sole, la nostra pelle che dobbiamo trattare bene, ricordiamo sempre che è l'organo più esteso del nostro corpo, no? E quindi attraverso la pelle noi assumiamo tanto, forse non ce ne accorgiamo, però in realtà possiamo anche assumere dei farmaci attraverso lo spalmarli sulla pelle. Lo stesso cortisone che viene applicato sulla cute, se fatto in modo indiscriminato e protratto, può portare a una soppressione dell'asse ipofisi surrena. Abbiamo visto dei casi che poi esitano a volte in una insufficienza surrenalica acuta che può essere letale se non trattata tempestivamente. È un quadro impressionante di collasso totale del paziente che nel giro di poche ore richiede di essere supplementato perché... Quante volte, quante ore al giorno, anzi non volte, quante ore al giorno noi possiamo reggere l'esposizione solare? Perché questo è un regis. Diciamo che non si può dare una regola perché ci sono molte variabili. Una variabile innanzitutto è l'irraggiamento solare in quella zona, perché un conto è essere nel nord del Marocco, un conto è essere sulle montagne, un conto è essere in Valpadana. Poi c'è il discorso del fototipo che è un aspetto genetico, cioè quanto tu tendi a pigmentare e quindi a essere un pochino più protetto dalla tua melanina rispetto alle radiazioni solari. Quindi dividiamo le persone in cinque fototipi, dove il primo fototipo sono gli albini e non hanno proprio la possibilità di pigmentare, ma sono rari. E poi abbiamo il fototipo 2 e il fototipo 3, che sono le persone di origine celtica sostanzialmente, che quindi fanno fatica ad abbronzarsi e si ostiorano facilmente. Il fototipo 4, il mio, è comunque quello di gran parte della popolazione mediterranea. Poi abbiamo i neri, che hanno un fototipo che concede loro naturalmente un fattore di protezione di 20. Sì, che si devono proteggere pure loro, diciamo. Si devono proteggere pure loro, anche perché dove stanno loro l'intensità dell'ereggiamento è estremamente importante. Abbiamo anche dei parametri che ci possono aiutare. L'UV-Index, che è appunto un numerino che va da 0 a 11 e che quando supera 6-7 richiede che si utilizzino delle protezioni e si riduca il tempo di esposizione solare. Quando arriva a 8 bisogna stare all'ombra e quindi, diciamo, è difficile dare delle generalizzazioni. Quel che è certo è che è inopportuno esporsi al sole dalle 10 del mattino fino alle 16 del pomeriggio, perché abbiamo un eraggiamento che può superare ampiamente questi valori. Ecco, poi comunque anche la sensazione che abbiamo, perché immagino che se uno si espone al sole e sente bruciare, forse è il caso di prendere delle precauzioni. Ma non sempre, perché se ci sono altre variabili atmosferiche come il vento, per esempio, oppure il nuvolo che lascia comunque passare tutti gli ultravioletti A, non ce ne rendiamo conto e possiamo subire un danno solare importante, una lucite. Per quanto riguarda il grado di protezione, ecco, allora, dobbiamo andare sul massimo grado? Anche lì bisogna tenere conto della sede dove noi ci andiamo a fotoesporre, dell'UV Index e del nostro fototipo, per cui persone molto chiare fanno bene a riferirsi a un fattore di protezione 50 che è, diciamo, il massimo, ragionevolmente il massimo. Poi ci sono anche fattori di protezione superiori, ma dipende molto questo anche dalle classificazioni internazionali. Però diciamo che un fattore di protezione 50 è estremamente valido. Per chi ha già una certa abbronzatura o ha un fototipo scuro, si può scendere anche a 30, 20, a seconda dell'intensità dell'esposizione, della sede. Fattori di protezione inferiori a 20 non hanno, dal punto di vista tecnico, termatologico, un grande allievo. Ci sono a volte nei cosmetici, ma sono di scarsa utilità. Ecco, anche in questo caso usiamo, non dobbiamo usare il fai-da-te. Beh, ecco, io lì potrei, diciamo, fare qualche commento a meno, perché la nostra specialità è molto esternistica, a volte si presta anche a queste cose. Per far capire come effettivamente sia inopportuno, posso citare un paio di casi clinici. bambino, ragazzino di 7-8 anni, accompagnato dal padre, che presenta tutte colature nerastre dal viso, lungo il corpo, orribili, molto estese. Padre, famiglia molto preoccupata. Comincia a interrogare il ragazzo, eravamo d'estate, e lui, dopo un interrogatorio piuttosto stretto, ha confessato di aver prodotto, guardando appunto in televisione delle ricette, o su qualche rivista del pettine, un estratto di una sostanza fototossica, l'olio di bergamotto, che c'è in tracce in alcuni profumi, però l'ha fatto lui, se l'è spalmato e è andato al sole. E allora, quando appunto ha tirato fuori questa cosa, ho spiegato al genitore di che cosa si trattava. Allora il genitore si è rilassato un po' e mi ha chiesto, ma quanto possono durare queste pigmentazioni? Dico, ma anche due o tre anni. A quel punto abbiamo dovuto trattenere il genitore che voleva scagliarsi con l'intento punitivo immediato sul ragazzino. E quindi fai da te estremamente pernicioso. A volte poi partono dei messaggi sbagliati. E qui siamo in una scuola superiore tecnica, ultimo anno, ragazze di 18 anni che dovevano andare al mare. L'insegnante fornisce una ricetta autobronzante con foglie di fico messe a macerare in un certo modo. Il risultato è che abbiamo avuto tre ragazze con delle bolle grandi quanto albicocche. E due di queste le abbiamo dovute ricoverare perché hanno avuto una reazione fototossica bollosa, pari a un'ustione di secondo grado estesa. Questo discorso rientra anche nel pensiero comune che gli elementi naturali non diano nessuna reazione allergica, non facciano male. Quindi l'erba fa bene, il farmaco fa male. Non è sempre così. La cosa che è più attiva in senso fototossico è il fico, perché il fico contiene delle sostanze chimiche organiche che condensano l'intensità dell'irradiazione solare e causano delle lesioni bollose. Tutti gli anni noi abbiamo qualche contadino o qualche dilettante che va a potare la pianta di fico mentre c'è il sole forte e arriva con delle bolle disseminate che richiedono magari anche un trattamento. Quindi quell'insegnante ha fatto un pensiero un po' strano di dare una ricetta del genere. Eh sì, è meglio evitare. Allora, con questi ultimi due aneddoti, chiudiamo questa puntata di Pronto Dottore. Avete sentito, i consigli arrivano ovviamente non dal fai da te, ma da esperti, da professionisti della salute del nostro ospedale Santa Croce di Cuneo. Quindi sono personaggi importanti che badano, sono i custodi della nostra salute. Quindi attenzione, godetevi questa estate, godetevi il sole, ma cum grano salis, come dico sempre, come dicevano i latini, con moderazione. Quindi attenzione all'esposizione solare nelle ore prestabilite e non quando il sole è troppo forte e non ha schermi. Usate le creme solari adeguate, fate incetta di vitamina D per quanto è possibile, perché in fondo male non ci fa con quella naturale che ci arriva dal sole, ci può solo far bene. E soprattutto non prendete colpi di calore, non passate dal caldo al freddo rapidamente, mangiate sano, fate movimento, che questi sono i consigli salutari da parte di qualunque branca della medicina, perché è la base sulla quale noi costruiamo il nostro benessere quotidiano. Quindi grazie al dottor Bertero, grazie alla dottoressa Giannotte, al dottor Manca, grazie a voi e buona estate. Grazie a voi e buona estate.